Quali sono stati i punti chiave del suo intervento? Il telemarketing è una pratica vessatoria, è un'emergenza di questo paese che coinvolge dal nord al sud e tutte le classi sociali. La politica in ritardo arriva a normare evidentemente una pratica che non è stata normata in maniera corretta. Oggi è stato importante perché abbiamo messo intorno a un tavolo un po' tutti gli attori, dagli utenti ai consumatori ma anche agli operatori del settore. Il garante della privacy ha fatto un elenco puntuale delle questioni che devono essere toccate da una nuova legge. La politica si è presa l'impegno in maniera trasversale di affrontare questa emergenza. Lei è autore di una proposta legislativa, che cosa propone? Serve in sostanza un registro che possa consentire a tutti i numeri telefonici fissi e mobili di poter essere inseriti contro le pratiche del telemarketing e lo possa consentire anche coloro che inadvertitamente avevano dato il consenso all'utilizzo del loro numero. Ovviamente devono essere previste sanzioni congrue perché naturalmente questa è una pratica economica e quindi deve essere combattuta sullo stesso terreno. Deve essere un disincentivo chiaro rispetto a chi usa in maniera eccessiva e sbagliata questo strumento, che è uno strumento legale, quello ovviamente del telemarketing. Quindi questo deve essere fatto però anche dando poi la giusta informazione ai cittadini, che devono sapere quali sono i loro diritti e poterli mettere in pratica in modo da potersi difendere in maniera efficace.